Ciao! Oh, che dobbiamo fare in questo periodo? Vuole che ci dicono? Una cosa che forse tante di noi sogniamo sempre di fare, no? BABADUBA DU B Duchambo, BABADUBA DU B B B B B, T'Ma 제가 State a casa, state a casa, state a casa, e tutto passerà. State a casa, state a casa, state a casa, e presto tutto passerà. State a casa, state a casa, state a casa. Stay at home!